Sei mesi di lavoro, di incontri, di laboratori per approfondire un tema quanto mai importante, ovvero quello riguardante la democrazia e i diritti. Diritti a volte negati, a volte poco conosciuti. Promotori dell'iniziativa alla presidenza del Consiglio Comunale di Verona e dal garante dei diritti delle persone private della libertà personale. Protagonisti gli studenti degli istituti superiori Montanari, Einaudi, Pindemonte e dell'Educandato Agli Angeli. Questa iniziativa è un'iniziativa europea, è un grande progetto europeo per i giovani sulla democrazia e sui diritti. A Verona abbiamo scelto, anziché concentrare in una giornata della quale giornata tutti poi si dimenticano, di lavorare con le scuole superiori per sei mesi, da ottobre a marzo. Il tema, come dico appunto, è della democrazia e dei diritti. Non c'è democrazia senza diritti e non ci sono diritti senza democrazia, ovviamente. La mattinata che si è aperta con l'esibizione del coro degli studenti del Liceo Montanari ha visto la partecipazione via Skype di studenti della Finlandia, della Turchia e del Portogallo. Al centro dell'incontro la presentazione dei lavori fatti sul tema della democrazia e dei diritti, così come ci hanno raccontato Gabriele e Riccardo. Noi ci siamo occupati per il Liceo Montanari del tema del volontariato all'interno di democrazia e diritti. Noi siamo andati in varie realtà, dalle case famiglie al canile, a intervistare, lavorare con i volontari. Il nostro obiettivo è stato, facendo un video che racchiudesse tutte e tre le realtà che abbiamo visitato, di sensibilizzare i giovani alla pratica del volontariato, in quanto se ne parla tanto in televisione, ma purtroppo tra i giovani è una cosa molto trascurata. Democrazia e diritti, voi che cosa avete prodotto e che cosa avete capito di questo tema? Noi tramite l'analisi di documenti e di interviste a ragazzi e genitori che vivono in paesi in via di sviluppo, quindi ragazzi che non godono del nostro diritto e in particolare noi ci siamo soffermati sul diritto allo studio, abbiamo messo insieme questi documenti, abbiamo creato delle ipotetiche giustificazioni di assenza di questi ragazzi e con la lettura di questi articoli speriamo che noi ragazzi ci immedesimiamo nella condizione di questi ragazzi che sono nostri coetanei alla fine e vivono in condizioni davvero che si fanno fatica a immaginare finché non le si tocca con mano e speriamo che sia appunto un modo per riflettere ed apprezzare il diritto che noi abbiamo e diamo per scontato. Grazie